Gli aspetti fondamentali di cui bisogna tener conto sono sostanzialmente un doppio approccio che si può avere alla materia, uno più caratterizzato da un punto di vista tecnologico e un altro che ne derivo e collegato ma è di altro aspetto, è quello di natura giuridica. Il legame di questi due aspetti legati all'incremento della quantità di device venduti dalla quotidianità e dalla pervasività dell'utilizzo pongono dei problemi di natura giuridica, pongono dei problemi anche di limitazione tecnologica all'impiego di una certa quantità di dati, quantità che via via in evoluzione, quantità che può essere condivisa in maniera diretta o indiretta da insiemi limitati ma che rischia di diventare un prodotto, un contenuto a disposizione di tutti in maniera talvolta indiscriminata. Grazie Grazie